Ciao a tutti, oggi prepareremo il salame al cioccolato senza uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 3 ore per solidificare. Gli ingredienti sono biscotti secchi sbriciolati grossolanamente, cacao amaro, burro, latte intero, zucchero e granella di nocciole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cacao amaro e lo zucchero. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale mettere il latte e il burro. e lo facciamo sciogliere per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungere il cacao e lo zucchero. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Lasciare intiepidire. Mettere nella ciotola con i biscotti la granella di nocciole. e raggiungere la glassa. ed amalgamare bene. Dividere il composto in due fogli di carta da forno. schiacciare bene e dare la forma di un salame. Arrotolare nella carta da forno. e riporre in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il salame dal frigorifero. spolverizzare con lo zucchero a velo. Passarci sopra le mani. trasferire in un piatto da portata, tagliare a fette e servire. Salame al cioccolato senza uova. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.